Siamo rientrati con 124 nel mondo rally due anni fa, è stato sicuramente un anno di avvicinamento, abbiamo lavorato molto, infatti in questa nuova stagione siamo tornati più organizzati, più preparati, ma anche più veloci e più affidabili. Il lavoro ci ha dato ragione, 124 già con qualche gara di anticipo ha portato a casa il campionato mondiale di categoria RGT con più di 40 successi di categoria, ma anche con tanto divertimento. Infatti è una vettura che con trazione posteriore, freno a mano e guida di traverso ha saputo dare davvero grande divertimento a tutti gli appassionati. La Targa Flore è stata anche l'occasione per rinnovare la gamma di 595, in particolare con le nuove versioni turismo e competizione in cui mettiamo in risalto le due anime del nostro brand, non solo quella più corsaiola, nota al grande pubblico, ma anche quella più legata allo stile e al design, quindi con competizione e turismo. nuovi gli interni, nuovi colori, nuovi tanti particolari, ma su tutti vorrei evidenziarne uno, lo scarico Record Monza oggi disponibile su competizione farà davvero piacere gli appassionati. Così la strategia di prodotto e di marketing ci sta dando ragione, Abarth è tra i marchi che crescono quest'anno, più 15% rispetto all'anno scorso e la buona notizia è che non cresciamo solo in Italia, Spagna quasi 40% in più, Francia e UK quasi 30%, cresciamo anche in tutti gli altri mercati.